bella per tutti ragazzi è arrivata finalmente la nostra Aventator serie limitata roba di carbonio sp sempre alla grande lambo lambo linea abbastanza aggressiva come la vedete bene dai vi faccio sentire un po la situazione com'è qua dai ragazzi dai dai porca mucca dai vai tutta roba da Aventator display entriamo dentro ragazzi vai questo è il display ditemi se vi gusta poi non ci facciamo due risate dai ragazzi dai dai porca miseria chiudiamo il tastino lambo 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 come la sentite va bene raggiusto un assaggino per farvi capire grazie di tutto è stato un piacere bacio a tutti ciao ragazzi